che bei quaderni sono dei fratellini Duccio e Carletto Galimberti che imparano a scrivere e a contare bu 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 bo 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 ba 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 il bu è un animale umile dettato la ciliegia è rossa mmm che buona il pulcino segue la chioccia e dopo le lezioni tutti a passeggio a Duccio piace camminare lungo i baluardi mi piace osservare le nuvole ma preferisce la tostura quaderno per la bella copia di Duccio Galimberti 27 dicembre 1912 a me piace più passeggiare sul baluardo di stura perché mi sento più libero insieme a Duccio Galimberti 28 dicembre 19 una campagna di ficare ragazza